Canicattini Bagni, il comune è sempre più digitale grazie ai due finanziamenti del PNRR. Due finanziamenti del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ricevuto dal comune di Canicattini Bagni per innovare, migliorare e semplificare i servizi destinati ai cittadini e alle imprese attraverso il percorso della digitalizzazione, i pagamenti online e il trasferimento in cloud dei sistemi informatici e degli ambienti di elaborazione dati. Il primo finanziamento di 34.280 euro riguardato l'adozione della piattaforma PagoPai e l'applicazione App.io semplice, veloce e tracciabile sono state già attivate dal comune di Canicattini Bagni, utilizzate da cittadini e imprese per i pagamenti e per semplificare le procedure e verranno implementate come previsto dalle direttive del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il secondo finanziamento ottenuto di 121.992 euro è finalizzato all'abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali. Migreranno in cloud in questa prima fase, come ricordano il Vice Sindaco e l'Assessore delle politiche social-sanitarie Marilena Miceli e la responsabile della transizione digitale del Comune Paola Cappè, i servizi sociali, i provvedimenti sanitari e il suo app e la biblioteca comunale, riuscendo a ospitare e valorizzare dati e applicazioni in un ambiente ottimale con notevoli benefici in termini di costi, performance e sicurezza. Un percorso di digitalizzazione e innovazione da subito intrapreso dall'amministrazione comunale, già nella passata legislatura, per rendere più efficiente la pubblica amministrazione e supportare i cittadini e le imprese con servizi sempre più performanti e accessibili.